Oltre ai 100 milioni di danni direi che è fondamentale ricordare che noi abbiamo la necessità quantomeno di avere mezzo miliardo di euro per diaframmare e quindi mettere in sicurezza gli argini che sono stati assolutamente molto sollecitati e quindi oggi hanno l'esito del danno di questa alluvione. E così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della conta dei danni. Le aree più colpite sono le spiagge e le zone montane. Solo a Bibione, 7 chilometri di litorale, hanno subito un'erosione di 40 centimetri. Poi ci sono le frane in montagna e in collina 32, quelle registrate, che impongono lavori sulla viabilità secondaria. È la cifra degli investimenti a far schizzare i conti in alto con la messa in sicurezza necessaria delle anse dei fiumi. I lavori riusciamo a farli velocemente. Il problema vero è un altro problema che ci vogliono le risorse. Ne ho parlato con il ministro Salvini, ma ne ho parlato in senso generale, visto è considerato che il Governo dovrà fare ovviamente un decreto e cominciare a stanziare fondi rispetto a quello che è accaduto. Due miliardi ha già investito la Regione Veneto in grandi opere dopo il 2010 con la grande alluvione. Resta scoperto il fronte del Piave sul quale pende il progetto tanto contestato del bacino alle Gravediciano. I ricordi della piena storica del 1966 sono vivi. Per la Regione è quello del Piave il prossimo fronte. Ci dobbiamo concentrare il più possibile sul Piave perché quel bacino idrografico del Piave è un bacino importante, ce l'ha dimostrato anche durante questa ultima alluvione e in 24-48 ore il Piave si è totalmente riempito d'acqua. Bacini di laminazione e diaframmature degli argini col calcio estruzzo perché vanno rafforzati. In queste ore intanto il Centro funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale emette una nuova allerta arancione fino alle 14 di domani per il bacino Po e Basso Adige. Allerta gialla invece nei bacini Basso Brenta, Bacchiglione, Livenza e Tagliamento.